La via della perfezione. 17 febbraio 1978. Figli miei, sono la Vergine della consolazione, e consolazione voglio dare ai vostri cuori, come voi consolate me con le vostre preghiere, coi desideri santi e coi vostri affetti. Vi voglio consolare dicendovi che non dovete temere nulla, poiché io sarò sempre il vostro scudo e la vostra difesa. Vi voglio anche approvare per quella consacrazione che voi fate a me, per cui vi mettete liberamente nelle mie mani e vi affidate alle mie cure, poiché le vostre speranze non andranno deluse. Vi porterò a salvezza. Non solo, vi adopererò come mezzi di salvezza. Voi potrete fare un bene grandissimo, proporzionato non solo all'amore che io vi porto, ma anche a quello che voi mi dimostrate. Io voglio sulla vostra vita, vi guido per la giusta strada, vi do luce per la vostra vocazione, missione e professione, per cui potete avere serenità e pace. Io non deludo i miei devoti, che a me si affidano con piena fiducia. Un giorno potrete constatarne i miracoli di misericordia, di bontà e di sapienza, compiuti attorno alla vostra persona per difendervi dai pericoli, per sostenervi nelle prove, e per ottenervi favori e grazie confacenti al vostro stato. Ora, che cosa voglio additarvi? La via più breve per arrivare alla perfezione. È la via della semplicità nell'amore, la via dell'amore, reso semplice strumento di vita. Come potrete mettere le ali per raggiungere la perfezione? Amando. Come potrete cancellare le colpe giornaliere, da cui nessuno è esente? Mediante l'amore. Come potrete accrescere, acquistare, conservare e diffondere la fede? Sempre mediante l'amore, che si farà strada dovunque e che richiamerà i vostri simili a Dio. Avete anime da convertire? Portatele a me, mediante il vostro amore per esse e per me. Io muovo le coscienze, io ammorbidisco i cuori. Vi illumino su una verità che molte volte viene trascurata, e che è assai importante. Quando il Signore vuole conquistare le anime e queste gli resistono, io le chiamo con la bontà, rendendo teneri i loro cuori coi sofferenti, coi familiari, coi poveri. Dalla carità, da essi esercitata, viene come conseguenza la fede. Non è detto nella scrittura che la carità e l'elemosina coprono la moltitudine dei peccati. Ecco perché non dovete diffidare della salvezza di quelle persone che, pur non avendo fede, esercitano la pietà verso il prossimo. Dio premia la carità col dono meraviglioso della fede, da cui deriva la salvezza. Il Signore ha scelto alcuni santi, a cui ha affidato l'incarico particolare di indicare alle anime la piccola grande via dell'amore. Suor Consolata, che seguì e completò la via dell'infanzia spirituale di Teresa, fu una di queste anime. La sua vita divenne faro di luce, anche se poco fu conosciuta ed apprezzata. Ella richiamò continuamente le anime semplici alla pratica di quell'atto d'amore che diventa vita. Io vi affido alla sua custodia, perché voi pure possiate vedere e gustare l'utilità e la bellezza di vivere amando e, essendo riamati da Dio, suscitare attorno a voi un incendio d'amore. Tutti vi chiamo per nome e vi abbraccio con tenerezza materna. Abbiate fiducia, abbiate fede, amate tutti. Sono con voi. Buonanotte.